ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato alla file tv stick qui sullo sfondo un fantastico uomo tigre eccoci qua sulla schermata della file tv stick di cosa vi parlerò in questo video di un ulteriore metodo per riuscire ad installare applicazioni di terze parti sul vostro dispositivo amazon che non sono presenti sullo store ufficiale ovvero quello che vedete qua con l'icona arancio app store vi avevo già fatto vedere in altri video chi mi segue lo sa già che vi mostrano metodi alternativi per riuscire a recuperare anche altre applicazioni che non sono presenti appunto sullo store ve l'ho fatto vedere tramite l'applicazione downloader ve l'ho fatto vedere anche tramite connessione ftp ecco qua downloader questa in questo video voglio far vedere un metodo alternativo che potete utilizzare sfruttando uno smartphone android come questo ma va bene qualsiasi smartphone android nel quale vi basterebbe installare un'applicazione per riuscire appunto a scambiarvi applicazioni che non trovate nello store ufficiale prima però di andare a vedere cosa vi serve e come si procede questo è il momento di sostenere il mio canale ho bisogno del vostro aiuto e ve lo ripeto mi scuso se a volte sono insistente ma davvero voi siete la linfa vitale perché il mio canale continua ad andare avanti qui su youtube e per farlo vi basterà iscrivervi lasciare un like attivare la campanella la campanella vi permetterà anche di restare aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video qui sul mio canale dedicato alla tecnologia allora andiamo a vedere ve l'ho scritto nel titolo come installare applicazioni presenti sul vostro smartphone android direttamente sulla vostra fire tv stick andiamo allora innanzitutto la nostra guida deve cominciare con le impostazioni di base che cosa è fondamentale perché questa procedura riesca intanto io la sto facendo su una fire tv stick light peraltro nemmeno l'ultima generazione un po vecchiotta ma questo metodo funziona anche su quelle di nuova generazione per cui state tranquilli non è importante che acquistiate l'ultimo modello della fire tv stick però è invece fondamentale che la vostra fire tv stick sia connessa alla stessa rete wireless del vostro smartphone quindi se qui siete connessi con la rete a sulla file tv stick dovete essere connessi sempre sulla stessa rete a altrimenti non funzionerà poi naturalmente è fondamentale che sulla file tv stick siano impostate quindi attivate le opzioni sviluppatore che trovate nel menu impostazioni subito sotto la voce informazioni che sia abilitato su on il debug adb in modo da permettervi di installare anche appunto app che non siano presenti sullo store ufficiale questo per quanto riguarda lato fire tv stick per quanto riguarda invece lo smartphone android è fondamentale andare ad installare una specifica applicazione allora quello che vi servirà mi faccio aiutare in tempo reale dal mio smartphone android sarà installare questa applicazione easy fire tools vedete il secondo risultato è proprio l'applicazione che ci serve easy fire tools l'andate ad installare e poi l'andiamo ad aprire ecco qua l'interfaccia dell'applicazione molto molto semplice come vedete qua ci sono tutte le applicazioni che sono installate nel mio smartphone android sulla sinistra c'è il classico menu a sandwich quello che ci interessa sarà immediatamente connettere la file tv stick al nostro smartphone android per farlo vedete qua l'icona con il simbolino dello smartphone e del wifi qua in alto lo andiamo a premere vedete che inizierà ad andare alla ricerca di quelle che sono le file tv stick in questo caso che ho presente nella mia abitazione che sono connesse vi ripeto alla stessa rete wireless una volta che le avrà rintracciate ve le mostrerà in questo caso vi faccio vedere quella su cui io voglio installare le mie applicazioni se vado sulla mia file tv dalle impostazioni nella sezione informazioni potrò trovare il nome ed infatti eccola qua la prima qua in alto se io questo device lo vado a connettere a questo punto si collegherà lo vedete in basso potrò andare a premere la seconda icona qua in alto che tenterà la connessione con la mia file tv stick infatti vedete che si è abilitata la finestra per consentire al debug usb di collegare i due dispositivi io andrò a selezionare la casella consenti sempre se vorrò effettuare questa opzione una volta e basta oppure lasciarla così e andare a premere sul pulsante ok a questo punto potrò cliccare sul continuo e sul mio smartphone e aspettare che due device si siano collegati il pop up e mi indica che tutto è avvenuto con successo a questo punto io mi sposto nella sezione applicazione per farvi vedere che qual è la situazione attuale delle applicazioni che io ho installato per vedere la nuova applicazione che dallo smartphone passerà sul mio device allora immaginiamo per esempio di voler installare dal mio smartphone l'applicazione tv mob pro alla fire tv stick avevo detto le impostazioni di base che sono fondamentali e che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete wireless ora che abbiamo connesso lo smartphone alla fire tv stick mi basterà selezionare l'applicazione vi verrà chiesto se io voglio installarla sulla fire tv stick inizierà il processo di trasferimento dell'app alla fire tv stick quindi io già mi preparo nella sezione delle applicazioni in modo che voi possiate vedere che non è presente attualmente l'applicazione dovrò attendere il processo di trasferimento che ovviamente è influenzato sia dalle prestazioni del dispositivo in questo caso è un rog phone uno smartphone da non grandi prestazioni dalla stessa connessione ma soprattutto dal peso in termini di byte dell'applicazione in questo caso circa 10 mega per cui non preoccupatevi se potrebbe volerci un po di tempo è comunque un metodo secondo me molto valido soprattutto se non avete un computer a disposizione e nell'ipotesi che downloader non sia più disponibile direi che potrebbe essere anche utile in tutti quei casi in cui magari non conoscete esattamente l'ubicazione di quella determinata applicazione ma la state già impiegando sul vostro smartphone android e volete provarla sulla fire tv stick a riguardo però io solitamente faccio una precisazione non dimenticatevi mai che le applicazioni per smartphone soprattutto in termini di user experience e di visualizzazione non è detto che siano ottimizzate per la fire tv stick né tantomeno che siano ottimizzate per il processo processore scusatemi che è presente sulla fire tv stick per cui quando fate questi spostamenti è probabile che non tutti vadano sempre a buon fine al cento per cento potete anche provare testare e quindi sperimentare in modo da trovare esattamente quello che state cercando di solito tutte le applicazioni che io porto qua nei miei video sono tutte testate da me quindi è difficile che siano applicazioni che non funzionano al primo colpo però potrebbe succedere quindi non vi allarmate se nel caso avete bisogno di chiarimenti potete scrivermi lì tanto io rispondo a tutti quindi vedete siamo all 88 per cento io non ho staccato la registrazione in modo che vi sia facile vedere che cosa che cosa accade siamo al 97 per cento al termine vedrete che l'applicazione inizierà di installarsi quindi terminato il trasferimento partirà il vero e proprio processo di installazione che dovrebbe far comparire poi l'app appunto nella sezione applicazioni e giochi ecco infatti che è partito l'installation in progress quindi l'installazione ora procederà con tutte quelle che sono le sue funzioni attendiamo che avvenga il processo ci ha messo un po ho abusato un po della vostra pazienza ma in questi casi è sempre bene verificare tutti i passaggi in modo che non ci siano fraintendimenti oppure cose che potremmo dimenticarci aspettiamo ancora un po installation in progress sembrano un po quelle scritte da cantieri no work in progress che poi non terminano mai ok il processo vedete è terminato adesso vedete che è cambiata la schermata sulla mia file tv stick e qua in basso è comparsa l'applicazione che io ho inviato direttamente dal mio smartphone quindi siamo arrivati a conclusione di questa di questo tutorial ritorniamo alla home della file tv stick avete visto il procedimento non è complicato posso stoppare il mio smartphone non è complicato ma occorre importantissimo ripetiamolo stessa connessione wireless fra smartphone android e farti lu stick installate l'applicazione easy file start ve lo faccio vedere anzi voglio ecco si fare il easy fire tools scusatemi è importante lo trovate sul play store gratuito connettete il device lo smartphone alla fire tv stick e avviate la connessione per il trasferimento direi che per il momento è tutto ma solo per il momento andrea mini vi saluta e vi rimanda al prossimo tutorial sostennete mi sostenedemi sostenete mi sostenedemi